Mancano due settimane l'avvio delle lezioni, ma sono tante le incognite sulla scuola. Lecco, come nel resto d'Italia, si attendono le disposizioni del Ministero. Nel frattempo si cerca di adeguare per quanto possibile le strutture e le prescrizioni già note per limitare la diffusione del Covid, vale a dire distanzialmente in aula, ingresse e uscite separate per gli alunni. Fervono i lavori per questi primi adeguamenti. La provincia di Lecco, responsabile delle scuole superiori, ha destinato a questi interventi circa 750 mila euro. Complice alla pausa estiva del cambio della guardia negli uffici di Villa Locatelli, non tutti i cantieri sono ancora partiti con qualche strascico polemico. A Lecco sono invece già spuntati i prefabbricati che il Comune ha dovuto installare negli spazi aperti dell'Istituto Bertacchi per ospitare gli alunni del liceo classico Manzoni. La sede di via Ghislanzoni sarà infatti quest'anno oggetto di lavori di manutenzione. Se da una parte dunque si cerca di rassicurare i genitori docenti sulle strutture scolastiche, dall'altra c'è un'incognita ben più pesante sull'avvio delle lezioni. Il tema, peraltro già sottolineato da diversi esperti, è legato al trasporto scolastico. In provincia, come nel resto d'Italia, è impensabile che, secondo gli orali vigenti, treni e bus possano garantire a tutti gli alunni di arrivare a scuola rispettando il distanziamento previsto per limitare la diffusione del coronavirus. Ed è questo il vero tema sul quale le istituzioni sono chiamate a confrontarsi. Un problema al quale non è semplice trovare una soluzione. Già convocato, un vertice in prefettura, nei prossimi giorni. Grazie. Grazie.